va vinta questa 5.000 punti 28 punti di giro di apertura prima campanella nel 2023 e nei punti nel 2022 ricordiamo che passeranno il turno le prime 5 tete di ogni batteria siamo alla prima campanella punti di meno 22 sulle prossime traguate 62 287 grazie 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 siamo a passare da punti di meno 20 2,9,2 2,7,2 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 3,4,2 3,4,2 3,4,4 3,5,2 3,5,2 3,7,2 3,5,2 3,4,4 Sessantadue, duecento, cinquantasei. Sessantadue, duecento, cinquantasei. Siamo ai punti di 2014 al passaggio. Sessantadue, duecento, cinquantasei. 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 Sessantadue, duecento, cinquant Probablyine. Sessantadue, duecento, cinquantasei. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 211. 211. sarà a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti.